Due giovani si avvicinano con un borsone in mano sull'Avenida Pareia Rolando a Guayaquil in Ecuador. Manca poco alla mezzanotte del 27 settembre, ieri mattina in Italia. I due estraggono due bombe Molotov, le accendono e le lanciano contro il ristorante Il Sabor Mio, del sulmonese panfilo colonico, conosciuto nella perla del Pacifico come Benny. I danni non sono particolarmente ingenti. Tavoli e sedi andati in cenere, la vetrina da cambiare, ma il messaggio sembra chiaro. Un'intimidazione, un tentativo di estorsione, chissà, una spedizione punitiva. Panfilo colonico, 49 anni, non sa darsi una spiegazione. Dice di non aver ricevuto né richieste di soldi né minacce, ma i precedenti lasciano pensare. Nel giugno scorso Benny venne infatti rapito per quasi cinque giorni da un commando che andò a prelevarlo nel suo ristorante e lo portò via. 125 ore di ansia e preoccupazione e alla fine il rilascio, grazie al pagamento di 200.000 dollari, sostiene la vittima, ma anche alla pressione della polizia ecuadoriana, che uccise un rapitore e ne arrestò altri due, tanto da convincere i sequestratori alla fine a rilasciare il 49enne alla periferia della città. Era il 29 giugno scorso. Ora, a distanza di tre mesi, tornano le minacce e la violenza nel rinomato ristorante di Colonico, che in Ecuador si è trasferito nel 2020 quasi per caso, andato per turismo e rimasto incastrato nel paese per il Covid. Aveva deciso alla fine di trasferirvi, si aprendo il primo locale, a cui, promette ancora oggi, ne seguiranno altri. E ancora, a gennaio, era rimasto coinvolto in una sparatoria con alcuni malviventi che volevano rubargli l'auto, episodio che la stampa locale però descrisse come un regolamento di conti. Anche a Sulmona, da dove è andato Rioano a quindicina di anni fa per trasferirsi in Canada, non tutti hanno un buon ricordo di lui. Cresciuto nel ristorante di famiglia, alla Magnolia, nella frazione di Torrone, era sparito dall'Abruzzo e dall'Italia, lasciando due figlie e la ex moglie. La nuova vita, iniziata in Ecuador, si sta rivelando per lui molto difficile. La criminalità è alta nel paese, ancora alle prese con una campagna elettorale sanguinosa che a metà ottobre celebrerà il ballottaggio tra i primi due candidati.